Noi conosciamo quali sono eventualmente i punti deboli delle norme, quindi anche i punti deboli del nostro mondo, del nostro mercato. È chiaro che con l'aiuto di tutti si possono fare delle norme molto più precise e puntuali. Il tutti è riferito al mondo artigiano che non ne vuole proprio sapere di essere confuso con i furbetti delle truffe, ultimamente dilaganti tra i meandri dei bonus 110 e i più di recente su quello facciate, con finti clienti e soprattutto finti lavori. Da qui la ricetta proposta al ministro della giustizia. Innanzitutto prima di fare una regola e renderla operativa bisogna comunque capirla e provarla, cioè nel senso di dire che quando esce una norma in gazzetta ufficiale deve essere sana. Ecco perché gli artigiani si mettono a disposizione per la scrittura e le eventuali modifiche, in particolare dopo aver sentito dal ministro delle oltre 250.000 leggi vigenti e delle loro inevitabili contraddizioni. È un ministro con i piedi per terra, ha ammesso quello che è successo nel passato, però ha dimostrato la volontà di migliorare e quindi di cambiare quello che non va bene. Noi puntiamo su questo, gli saremo sempre a fianco a stimolarlo affinché quello che lui ha detto e che a noi serve sia veramente fatto. Senta, un'altra cosa che ha detto è che ci sono troppe leggi e quando ci sono troppe leggi per una democrazia vuol dire che c'è anche troppa corruzione. Purtroppo l'ho ascoltato con molta attenzione queste frasi che lui ha detto e mi hanno preoccupato, però è una realtà tipica nostra italiana. Mi auguro che questo governo abbia la possibilità di durare, soprattutto questo ministro, e che, ripeto, quello che ha detto faccia.